Signor sindaco, signor Presidente, io sono della reddata mattina, una musica che prese, con questo signor Dico, ci sono stati 15 minuti, perché questa mattina, la discussione fonda, con la discussione, la nomina di dirigenti. Io penso che quando riguarda la confessione sull'università, io ho detto che abbiamo fatto tutte le dovute informazioni. Noi, in qualità dei suficiti, abbiamo mandato l'internozione, abbiamo dato il 13 e 10. Poi abbiamo fatto un'altra parte di un'intervista, di un'intervista, di un'intervista, con il film buon male, perché abbiamo, se ne è in casa, le nostre delle stesse dalle, dove mai è stato fatto con un atto sindacale, ma non più giù, abbiamo attesternato tutti i nostri doveri, si vanno a spanderare le sue sue 100 mila euro di vettura di spesso, per queste delle ricette. Ma io penso e credo che più di tanto non possiamo fare. E qui, a questi fiani, che poi potessi trovare loro, si vanno a fare qualche cosa, se veramente ci sono, se tu hai scappato un danno a lei, giustamente, tu hai fatto, e lo spogli, potrebbe rimanere stesso. Che oggi si vuole fare una analogia, e poi si è concitto con un'arte, se con due, siamo a guardare che andrò a sconanza, per quanto non fare un'arte, perché poi fanno i seguiti, ma il suo consiglio comunale, per amare, dentro la stessa situazione, sono cose che vanno a rispettare l'arte. Allora, io che cosa vuole fare? La置 anzati a un bambin girl, Me fa un domenico a Mattolo, volevo dire, in tanto forte che non ha via, che hanno bisogno di far perdermare, io ho visto, ucciso, che su faccia, un terzo genere, se veau, se veau. Che mi piace, se vado. Che è lo buono, perché fà, se vede a tro abitare il mio obispeto è successo, quanto deve partire, da un tanto di covo. No, no, se lo conosce, come a prestare insieme a Putin, si v에는iese, e voglio che il tale deve rimanere, o a meno che si manifesta nella città e il figlio ha bisogno di sostegno veramente di far nell'interesse della città, noi in qualità per tutta l'opposizione, staremo a cura. Certamente non lo stiamo a stare a portare la nomine dell'inizio, ma se le faccio a portare il problema di me. Allora io sono convinto che i suoi che fanno questa amministrazione riesce a capire chi è che sta a conto di me e vengono a tutti, vengono a studerare i gruppi che io sono. Guardate, è strano, è strano perché nell'intervento di Nicolai, il consigliere di quel tipo, evidenzia tanto l'intervento che dice per quanto riguarda i suoi che andiamo a contenere la scheda a tutti. La stessa cosa lo dice, spera, fino a passo. Però guardate, voi siete i rocchi, siete i rocchi, siete i rocchi delle persone che dicono che veramente non c'è, non c'è qui, non c'è un discorso tra voi e poi c'è un discorso tra voi e poi c'è un discorso che c'è l'intervento. Io porto le mani e non so perché scompi all'ufficio di quelli di gente, no? Ho manco, ho mangiato da qui. Lo dipendendo di questa giunta, ci sono le stesseure di questo. Dove, di quanto un giro, un giro, solo un giro, lo responsabile, un mese di niente. Ci sarà un ufficio del giro, lo dovete capire, un ufficio del giro, che è una discussione che va avanti da anni, è legittimo e affusivo, dove si pagano 90 mila euro, hablando del giro, per avere questo ufficio che mi ha chiarato, oggi un'aggiunta. E chiederebbe la commissione dell'aggiunta casa, ma di quale comunità le parte che sono relazionate con i vostri consiglieri comunali e con il vostro partito? O viceversa, il signo propende in campo, dicendo il fatto, questo ufficio del pubblico lo chiudiamo. Si toglie un'acquiescia per quello che dicono i consiglieri del Stato Dio, si toglie un'acquiescia passiva o pro politica cosa, perché abbiamo una struttura, perché noi abbiamo il nostro consenso, perché teniamo un ufficio consiglieri comunali. No, 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 e a consiglieri di questo, non mi interesserebbe una mondo che ci sono scusa, solo che ci hanno un problema di te, così, la tengo, anzi sono io e chiedete scusa, inizia a sceppare in questo momento, sono veramente vatticistato, perché mi stavo così gravarizzando, a volte la tecnica si tradisce dalla te, la cosa si tradisce, la dichiar', la parte che è contрачela dice come la lezione. La legge la legge, la città nella te, la legge la pre... chiedo ad un diventente che no adesso... ok? no, è che quando poi bisogna kızgresino... Allora così è, così. il tuo corpo si seguentes, tuo중에vici. Diceshe, allora, la tua Instead cucártina No, posso invitare il mio vivo al silenzio perché effettivamente non prendetemi nessun passaggio, prego. Allora, io c'è qui, no, allora, non lo riesco a dire, dovrei un problema, è in una parte, qui, dietro, di conoscimento, ha un problema, è in quella parte, a giudicura, a livello documento, un protocollo, un protocollo per quanto riguarda dovresti andare ad avversi, no, non lo riesco a dire che allora, che non può scherzare il consigliere comunale, Consigliere il diviso al consiglio, anzi al presidente, allora al consiglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.